Mister, una vittoria convincente, una vittoria che, come quella della scorsa settimana, ci voleva. Sì, sì, ci voleva una grande vittoria, voluta, sofferta, complimenti veramente alle ragazze perché hanno interpretato benissimo la partita contro una squadra, come aveva detto, di settimana che non rispecchiava la classifica che attualmente ha. Abbiamo affrontato una squadra ben messa in campo, molto brava sulle seconde palle, verticalizzavano tantissimo però, ecco, complimenti, ripeto, complimenti alle nostre perché hanno saputo contrabattere ogni loro attacco e in più andare a segno con le 3-4 occasioni che abbiamo avuto. Siamo state brave a chiuderci, a ripartire e essere ciniche, ciniche, cinici. Nel finale di primo tempo, forse un po' di difficoltà nell'impostazione, il Tavagnaco ha fatto qualche occasione, difesa un pochino schiacciata, poi però con l'ingresso di Baldi si è subito anche risolta la situazione. Sì, nell'ultima parte del primo tempo siamo un po' abbassate, loro con queste palle lunghe, con la ricerca di Polli, dove era la finalizzatrice principale, la ragazza più brava, la giocatrice più brava a tenere palla, a far salire, a smistare. Abbiamo avuto un pressing offensivo appunto su questo sviluppo. Preve noi a contenere, sempre attente, lucide, concentrate, difesa, centro campo. Anche dato dal fatto che abbiamo giocato anche sul campo, non è in perfetta forma, in perfette condizioni. Secondo tempo, benissimo, brave a ripartire. Secondo gol a Mari, sicuramente, sul rimpallo, brava Grion a crederci a far gol. E niente, il terzo, una ripartenza dove la nostra qualità è migliore, ricercare Baldi in profondità e sta brava a buttarla dentro. Adesso è vero che si allunga la classifica dietro, ma non c'entra niente. Prima c'è la Coppa Italia, poi c'è da chiudere il girone d'andata contro Milano e Sassuolo e poi pensare al ritorno. Sì, c'è la Coppa Italia adesso. Ci proveremo, anche se abbiamo poco tempo, ci proveremo bene per affrontare il migliorno dei modi, anche perché vogliamo andare avanti. E poi ci sarà il Milan, l'ultima partita prima di Natale. Partita per partita ci prepariamo sempre con la stessa mentalità che abbiamo messo oggi in campo. Siamo contentissimi, anche perché comunque abbiamo staccato il penutivo posto. Però la strada ancora lunga, dobbiamo pensare, come ho detto, partita per partita, a fare più punti possibili per arrivare al nostro obiettivo, che è la salvezza. Penso che, anzi sicuramente, se giocheremo con questa intensità, con questa attenzione, concentrazione, potremo fare molto bene.